Ciao a tutti e benvenuti in questo video di Planetary Confinement Purtroppo non c'è il numero della serie perchè di solito dico sempre o tipo non lo so O dico survival dopo o scrivo tipo Cazzone so Uncharted Territory 3 Roba che mancano Comunque ho farmato come un deficiente Guarda qua quanta roba c'ho In realtà non è nemmeno tantissima Però fatto star che ho 34 small stones Che voglio andare ad utilizzare qui Ah cazzo per uno alla volta Minchia mi scordo sempre Uno Due Tre Quattro Merda Cinque Mmm Duvalle Dai Su Veloce Ecco qua Perfetto così possiamo craftare la nostra fornace Boom Quest completata La piazziamo anche Io la piazzerò qui Perfetto ma ho anche due pezzi di carbonio e non so cosa dovrei cuocere in realtà Fonte sega Allora La prossima questa è la questa numero 11 E dobbiamo craftare l'acciaio Perfetto Ok 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 Allora per fare questo dobbiamo avere tre lingotti d'oro Eh di ferro scusate Tre di zinco E tre pezzi di carbone Ne ho solo due Dovrei farne tramite dello charcoal Ok Ho capito Ehm Tre ferro tre zinco Ho capito Mui bene Mui bene Sai perché? Per il semplice motivo Che se non sbaglio posso fare tutto Ho questo Ho questo E se non sbaglio il procedimento è lo stesso Mi ha dato la dust Che Ok E la dust teoricamente mi dovrebbe dare I lingotti Faccio lo stesso con lo zinco E in effetti E' così Boom Easy peasy lemon squeezy Boom boom Mettiamo queste qua E siamo a postissimo Aspetterò solamente che sia pronto il charcoal Tanto volevo vedere se Ah minchia Minchia Mi sa che ho perso un po' di sapling Perché ero impegnato Di là Fatto sta che Comunque Noi qua siamo pieni di roba E per roba intendo Dust E il fatto che abbiamo la dust Ci consente Di fare una bella cosa Cioè Cos'è sta roba tra l'altro Come fa Se è trasparente Non lo so Non lo so Non lo so Fatto sta che la roba interessante E che io posso prendere la dust Che come vedete E' in quantità industriali E trasformarla in cose che mi servono Certo E' un po' paloso come procedimento Perché non esiste automatizzato Devi stare tu a FK Con il tasto premuto A fare così Guarda Ecco Ho parlato tantissimo Piazzato delle bocche a caso Troppo genio Suri Troppo genio Così devo fare Guarda Ancora Sì Ma questo è quello che devo fare Come vedete però Dà la roba E quindi non mi lamento Boom 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 Però posso Cuocere I tre pezzi di ferro E poi subito A tradimento Infilo anche Lo zinco Così siamo a posto Ora c'è solo a vedere Se mi dai lingotti Perfetto Ecco qui abbiamo fatto tutto E per craftarlo Ci mette lo zinco sopra Il ferro lì E il charcoal sotto Boom Un lingotto Di Ah no due Due perché è gentile Va che è gentile È gentilissimo Perfetto E con questi Possiamo craftare Delle cosette belline Ad esempio Una spada Di acciaio Un piccone d'acciaio E un'ascia d'acciaio Personalmente Per quanto mi riguarda Sarei molto interessato Alla spada Che tra l'altro Possiamo già craftare Quindi voglio provare A craftarla Andiamo a prendere uno sticchetto Andiamo qui All'unità di controllo Di sua mamma Boom Più sette È una bestia È una bestia Più sette Vuol dire Diamante È l'equivalente Di una spada di diamante Non male Non male Fatto sta Che io comunque Voglio aspettare il giorno Per andare ad esplorare Con la zona luminosa Lá in fondo Sono sicuro Che ci saranno Di sicuro Altre cose Da esplorare Qua nei dintorni Ma quella più evidente È di sicuro Quella lì Quindi aspetto un attimo L'ugiorno E ci siamo Muy bene Andiamo a vedere Con un po' di esplorazione Voglio provare anche Questa spada In quanti colpi L'uccino Due colpi Ok Non mi lamento Non mi lamento Per niente Però la stringa La prendo Non si sa mai Che mi faccia fare un letto Lo serve molto molto comodo Però lì vedo anche Un Wither Skeleton Che è scomparso All'improvviso Va benissimo Va benissimo Non mi lamento Non mi lamento Tra l'altro Non ho manco visto Qual è La prossima quest Oh oh Perché vado lentissimo All'improvviso Questo è Soul Sand Potrebbe Quicksand Ah addirittura Però non sto cadendo Ok solo un effetto Ok Soul Sand Soul Sand Mi dà un po' di lentezza Per un momento Allora vediamo un attimo Cos'è sta roba Dieci foglie Questa se non sbaglio È per la terra Ok 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 Possiamo fare le shears Sono stupidissimo Perché non leggo i libri Prima di fare le cose Ho capito Devo praticamente raccogliere Delle Le foglie Per fare la terra C'è un meccanismo In realtà anche abbastanza semplice Di crafting Con cui posso craftare la terra E mi servivano i due lingotti Che ho sprecato qua Sto vedendo qua Cosa c'è Questi sono Non sono altro che Semplicemente Degli ore Che magari più avanti Riuscirò a raccogliere Avendo un piccone Cosa che al momento Non ho Perfetto Direi che posso andare a craftare Di nuovo Altro acciaio Che mi richiederà Sei lingotti di ferro Sei lingotti di zinco E sei pezzi di carbone Ho fatto la cazzata Prima di fare tutto ciò Mi sono accorto Che le mie statistiche Sono piuttosto scarse Quindi mi sono creato un paio di alberi E così riuscirò a farmi Tre bottigliette Con cui arriverò nemmeno A meno 20 Dall'obiettivo Che l'obiettivo sarebbe il 100 Ma non ci si arriva Non appena avrò della terra Di sicuro Riusciremo a fare meglio Allora Boom Dammi secchiello Grazie mille Boom 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 E dammi le tre cose piene Grazie mille Le bevo tutte molto molto volentieri Purtroppo la mia temperatura Non è Ok stando all'ombra Magari aiuta Ok penso che aiuti tanto Purtroppo bisogno sempre e costantemente Di saplings Ciò ci riporta al fattore iniziale Che è che devo farmare soul sand Eh si soul sand certo Dust Perché purtroppo non ho abbastanza materiale Per fare quello che dovevo fare E devo creare le shears Per prendere le foglie Quindi devo limitare La mia La mia entrata di saplings Perché se prendo una foglia con le shears Di sicuro non mi da Eh i saplings Allora Prendiamo tutta sta roba Vediamo qual è Il nostro Bilancio Vediamo quanti riusciamo a farne Uno Due Tre Quattro Cinque tra l'altro questi sono i blocchi Che abbiamo visto prima là In quel cratere dove c'era il fuoco Boom Boom Quattro e cinque Ehm Direi che possiamo investire Un bel po' Del nostro carbone Per fare altro carbone Perché è essenziale Ci serve anche per craftare la roba Tra l'altro Qua potrei fare un'altra cobblestone Ma sinceramente non so se potrei creare La spada No no Mi sa che non potrei Sinceramente non so Non potrei usare Il ferro Per fare delle shears Normali Scusate Mi viene un piccolo dubbio Non è che magari mi sta trollando No no Dice che è per forza per quello Merda Quanti devono a coglierne? Ehm Ne basterà una immagino E mi da dieci foglie Come Come ricompensa Perfetto Non male Non male Intanto iniziamo a prendere roba qua Devo andare a prendere assolutamente Altra roba E per altra roba intendo Altra Dust Mi chiedo però Se io possa fare Una pala Oh cosa ho fatto? No Ho piazzato un pezzo di ferro Oddio no Che è sto casino Tempesta di sabbia What the fuck Boy Se ero in mezzo Al nulla A questa roba Come facevo? Perché non prendo danno? Tempesta di sabbia Non dovrebbe Dar danno No Non mi ramenti Non mi ramenti Forse perdo D'alberi Però Aspetta Devo andare a prendere I miei alberi Guarda quanti alberelli Guarda quanti Posso farmi Un altro secchial Ui Madonna Quanti alberelli Mi ne mancano ancora Di foglie Ah E' passato E' passato E' passato Buono Buono Altri Posso farmi gli altri Tre bottigliette D'acqua Così arrivo al 100% Vai vai Fatta 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 Faccio subito Come vi dicevo Non so Se io posso utilizzare La cobblestone Per farmi Una Pala Non posso evidentemente Mannaggia allora E non posso Almeno riprendermi Su sto blocco Perché l'ho piazzato male Cioè l'ho piazzato Non avrei dovuto piazzarlo Anzi Teniamoli fuori Dalla Dalla zona Allora Cosa stavo dicendo Si Ci comune tantissimo A fare Un altro di questi Mettelo qui Prendere il secchiello Mettelo lì E lì investire In altre tre cosette Che io mangerò Beverò Verrò Non mangerò Molto volentieri Fai bisogno di quale Resto della roba Ah no Arrivo al 99% Che palle Almeno la temperatura Si abbassa tantissimo Quella già È un plus Allora Stavo dicendo 4 4 Devo andare a raccogliere Sand Dust Perché sbaglio sempre Passato un po' Ma ci siamo Ci siamo Possiamo farlo Allora Nel mezzo Il ferro Sopra lo zinco Sotto carbone Boom Uno E due Perfetto Ora posso fare la Scia Le scia E possiamo craftare Anzi Prendere un po' Di bombina In effetti A casa è quasi notte Dobbiamo fare in fretta Veloce Ecco Stai stavo spondendo la merda Veloce Dai Leva anche sto blocco Allora Boom Ok Ok Ci siamo Ci siamo Dammi un altro po' Aspetta Ora mi spiegherà Come trasformarlo In terra E sono Molto felice Di questo Perché ho bisogno Di terra Anche solo per il fatto Che io ho qua Dei semini Che potrei far crescere E dai pane E avrò bisogno Del cibo Quando c'è la boss battle Finale Perché sì C'è la boss battle Finale Allora Leggiamo il libro Non ci provare mai Nella vita Oddio L'ho dovuto One shottare Perché non mi fa Craftare Le porte Ho bisogno Della porta Devo craftare Assolutamente Una porta Si può craftare Qualcosa di Simile a una porta Usando questa Craft Questa crafting Qua Shalla Non mi pare Non mi pare Pericolo Raga Pericolo Mangia la mela Mangia la mela E' stata Novo Gazzitte Mangia Mangia Allora Hide in decay Semino di Grano Ce l'ho già Grazie Comunque Shalla Con nove foglie Possiamo fare Il fogliame bagnato Ok Se lasciamo in una fornace Prendiamo Ho capito Ho capito Muy muy facile In realtà Molto molto facile Io posso far così Aspetta Quante Quante Di quante ne ho bisogno Però Aspetta Dov'è Blocchi No Blocchi Oh Merda Quanti cazzo Ne ho bisogno Ho bisogno Di nove Per nove 81 Foglie Bisogno Più Di uno Stack Cosa È successo Space Lift Oddio Chi sei L'endermite Oddio Sono lentissimo Cosa sta succedendo Da dietro No Aia Ok Ho tre cuori Corri un po' Eh Perché è così lento Almeno l'arco Non ha questo effetto Oddio No Allora Ho qualche blocco Per chiudermi Non ho blocchi Per chiudermi Ok Ok Bisogna fare un attimo Di diversivo Corri un poco Corri un poco Ok Ho i blocchi Per chiudermi Cos'è sta roba Non lo so È una freccia Ok Sono scemo Io Buongiorno Aia Aia Un cuore Un cuore e mezzo Un cuore e mezzo Un cuore e mezzo Non voglio perdere la mia roba Non voglio perdere la mia roba No Dammi la il metto Veloce Dove hai il metto Dammi la il metto Il metto Il metto Indosso Mamma mia Ok Rimasto solo lui Solo uno Ok Indosso il resto E chiuditi qua dentro Assolutamente Mamma mia Cosa è appena successo Rischiato tantissimo Se si perdevo tutto Mamma mia Cosa non gli facevo A sto cagno bastardo Due wet foliage Certo Devo arrivare prima All'averne un fottivo Però Per poter fare la terra Uh Cos'era quella cosa Space lift Non so manco cosa sia Fotte se Comunque Per questo episodio è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare un piaccio Se vi è piaciuto di questo episodio Di iscrivervi al canale Se non lo avete fatto Noi ci vediamo domani alle 7 Con un nuovo episodio Di Planetary Confinement Ciao Turuturututti